ciao ragazze ciao a tutti e a tutte nuovo video blog barra che riccio come state spero bene allora allora nuovo video blog innanzitutto per parlare un po con voi ma anche perché ci tenevo a fare questo video blog vabbè la giornata oggi è piuttosto nuvolosa quindi non lo so sono uscita solo per prendere delle cose delle commissioni un paio di cuffie e anche attaccare per comprare un jack del microfono cioè un jack per attaccarlo con l'avalier del microfono avalier non so l'avalier nome ovviamente il termine l'avalier del microfono e con il jack che non avevo ovviamente perché ci vuole il jack apposito per l'iphone perché l'iphone 15 io non avevo il jack apposito e mi è toccato comprarne uno nuovamente nuovo quindi a sto punto speriamo che si senta bene tutto il video e niente quindi adesso se sentite rumori strani spero di no comunque mi sto facendo una tisana anzi mi ho preparato una tisana ce l'ho già qui pronta eccola qua vedete perché ahimè purtroppo voglio non voglio ma mi è venuta una nausea bruttissima schifosa quindi non so cosa fare come farmela passare quindi per forza di cose che devo andare a farmela passare con un po di tisana questa maledetta nausea ma vabbè dettagli niente farò un perfetto smr ma pazienza anzi perché non dire che questo è un smr bello l' smr mi piace a morire è vero prima l'inizio ero un po scettica su fare smr poi però ho detto ma perché no se rilasso nei video smr dai e niente voi come state spero bene io ero riuscita a fare la spesa non so quando manco torna ma penso che per mese o giorno forse torna anche prima non lo so perché lei è molto sbligativa anzi più sbligativa di me quindi vabbè io non faccio testo con lei perché lei è molto molto più spiccia di me non so se l'avete notato ma presumo di sì già e niente ah ecco una novità che non vi ho detto mentre stavo per aprire questa registrazione si è dimenticata il telefono a casa vabbè che lei tanto non sa come chattare niente non ha mai saputo chattare però quando gli mandate mi sembrava il telefono rotto quello suo invece no quando gli mandate messaggi a lei rispondo io ovviamente perché la sottoscritta del canale solo io sono io e quindi rispondo io per mezzo suo però ovviamente come saprete è lei che ogni tanto risponde ai commenti scusate se intanto faccio così ma mi arrivano messaggi da amiche mie di youtube e instagram nulla voi come state il prossimo video sarà un altro video che sono nella mente quale sarà ma giuro giurin giurello me l'ho scritto che voglio che video voglio fare che video voglio fare aiuto e nulla allora la mese scusate la mese ma sono sono appena uscita da una passeggiata più mi sono andata a fare compri dai cinesi quindi sono un po non dico sudata ma quasi vabbè che stavo facendo di attività sportiva anche col capotto e la borsa non si può sentire sta storia però è così ho fatto un po di movimento dai tutto sommato un po di movimento l'ho fatto e niente praticamente sto guardando anche i forum forum con barbara palombelli chi non lo sa su instagram seguitemi fatelo perché vi rimando agli aggiornamenti di tutto quello che combino su in casa ma anche su youtube come non solo su tik tok su facebook eccetera seguitemi anzi vi dico una cosa mi metto tutti i link dei link il link è una parola grossa perché alla fin fine questi link non riesco mai a metterli metto solo i nomi dei miei social ma non metto i link perché non è che non sono capace non c'è mai voglia semplice ecco fatto il motivo ecco detto il motivo quindi vi metto tutti i nomi dei miei social senza linkarmi niente nell'attesa e nella speranza perché nell'attesa e nella speranza che mi possiate seguire cercandomi a destra manca nei social vi metterò ovviamente il nome giusto nei social perché oggi ho notato una cosa quando mi cercate con i link non riuscite mai a trovarli quindi faccio prima a mettere con sottoscrizione la sottoscrizione sì ciao con i nomi dell'info box i nomi anziché mettere i link i link come si può dire assogettati ai miei social vi metto i nomi così mi cercate con la chiocciolina perché ovviamente tutto con la chiocciola ma va e con la chiocciola mi cercate o su tiktok o anche chi mi vuole seguire su chi è interessato mi segue su instagram chi no su tiktok oppure facebook e un'altra cosa non l'ho detto all'inizio del video se questo video vi piace un bel pollice all'insù un commento attivate la campanella la campanella non è personalizzata né nessuna ma tutte quante tutte quante perché se no non vi arriverà mai la notifica già ve lo dico in partenza e perché no se vi rimane tempo fatemi sapere qua sotto un commento se l'audio si sente bene perché io non so ancora devo ancora provare capire se funziona bene o male tutto qua perché se non funziona bene che cavolo faccio ecco perché aspettate che ve lo metto così intanto che si senta bene o male speriamo che si senta bene io vi auguro che si sia sentito tutto perché così è un pasticcio io l'ho messo qua attaccato alla mia felpa spero che si sia sentito tutto allora ci tengo a ripetere ma poi non lo ripeto perché se no diventa tutto un pastrocchio questo video che se l'audio si sente bene va bene altrimenti lo rifaccio da capo rifacendovi uno nuovo di video vediamo almeno che non taglio alcuni pezzi ma lo lascio così spartano come il video cioè casereccio così ma almeno a me sembra che lo devo tagliare vediamo un po' come viene viene no come viene viene non esiste voglio provare a tagliare qualcosa non lo so ancora non ne ho idea scusate un po' l'smr ma l'smr ci sta con questo video cioè con questa tisana qua a posto tisana bevuta nausea quasi siamo venuti scoccioli perché sta passando e quindi se sta passando la nausea vuol dire che sta passando anche un po' la sta passando un po' tutto quello i malesseri che ho diciamo la verità non per dire altre cose inadatte da dire al video ma speriamo che mi stia passando tutto tra virgolette guardo di là se vedete che guardo in continuazione se vedete che guardo in continuazione di là perché se arriva mio zio o mia nonna o altre persone che non sono di questa casa mio zio si mi fa migliore si ma se arriva una persona che non sanno che ho il canale o che sanno che ce l'ho comunque per riscindere devo staccare e riprendere in un momento secondario ok secondo in un secondo momento non so più come parlare però ci siamo capiti dai bene ragazzi si è fatto non lo so pochi minuti video ma adesso vado un po' a vedere come ho fatto il video poi vediamo un po' se riesco a caricarlo su youtube e niente oggi comunque me la sono spiegata in tutto quello che devo fare ieri mi ho lavato la casa la casa la camera la camera spazzata lavata e tutto ho fatto il letto sì ho sbattuto tutti i tappeti insomma ne ho fatto gli strallati pulizie cose varie e oggi sono contenta perché non proprio contenta perché anche se è lunedì chi se ne frega se è lunedì è un po' angustiante però vabbè me lo faccio piacere lo stesso cosa posso farci mamma mia questi riccioli che allucinanti che sono niente ragazzi questo è tutto un bacio e a presto ciao fatele brave e i bravi ragazze e ragazzi e ci vediamo in un prossimo video ciao